Un nuovo fantomatico capitolo si sta scrivendo nel libro horror, permetteteci di dirlo, della pista ciclabile di Brindisi, quella tra Viale Aldomoro e Via Palmino Togliatti. Il Comune ha ufficialmente rescisto il contratto con la Sgambati SRL, la ditta campana che si sarebbe dovuta occupare della realizzazione dell'opera per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, si legge nel documento. Adesso però Palazzo di Città ha deciso di mettere in sicurezza il cantiere per salvaguardare l'incolumità dei cittadini in attesa del da farsi. Per questo con apposita ordinanza dirigenziale ha affidato il compito alla Brindisi Multiservizi e vietato la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati dal prossimo 29 gennaio fino al 31, dalle 7 alle 13. Ed ora come si intenderà procedere? Il Comune individuerà una nuova ditta? Ma per cosa? Per proseguire l'opera secondo il vecchio progetto, cosa assai scelerata e sembrerebbe fuori discussione? O per stilarne uno nuovo, magari più funzionale? O per smantellarla del tutto? Quest'ipotesi pare assai più remota perché vi si configurerebbe un danno erariale. Da cronoprogramma la pista ciclabile avrebbe dovuto essere pronta entro marzo 2023, in quanto i lavori sarebbero dovuti iniziare nell'ottobre 2022. Nel confronto tra la Sgambati e l'ente guidato dalla vecchia amministrazione, la ditta si assunse ogni responsabilità per i disagi verificatesi a causa della ditta a cui aveva assegnato i lavori in subappalto, fornendo delle garanzie, garanzie che a Palazzo di Città hanno preso per buone. Ma le cose, abbiamo visto, sono andate diversamente, perdendo tempo prezioso. Tempo che si sarebbe potuto impiegare per scorrere la graduatoria e porre in essere un nuovo contratto d'appalto con un'altra ditta. Intanto, allo stato attuale risulta completato appena il 38% delle lavorazioni previste dal contratto. Sa di fatto che è stato letteralmente distrutto uno dei viali più belli e dignitosi di Brindisi, in cui insistono sveriate attività commerciali. Già, è stato proprio il commercio a farne le spese di tale ritardo, perché il cantiere nato, oltre a un anno fa, ha tolto centinaia di riposti auto, affossando così l'economia della zona.